Finisce proprio così Bravi ragazzi Tanta strada Grazie 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 Ok Adesso Proponiamo che si chiama L'aforisma Anche questo è stato dal secondo a Di a vostro figlio Due di tre L'aforisma è un connesso di frasi Di aforisma Grazie Grazie Adesso L'aforisma La 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 lala La lala La file La faísca La mì Dai lì La zamì La f английca Nè Dadi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.